Sono in via Padre Coco, via Padre Coco è una traversa di via Cesare Battisti, diciamo quel tratto percorrendo il quale di via Cesare Battisti poi si prende la strada per San Giorgio. Un circa una decina di giorni fa ho sottolineato la problematica dei lampioni della pubblica illuminazione spenti. Devo dire che la mia linea politica è operativa, quella di segnalare i problemi e con un'aggiunta questa volta, di andare nelle direzioni, di rivolgermi agli assessorati, devo dire che questa linea ha portato e sta portando dei frutti. Pensatela come volete, dite quello che volete, sta di fatto che io porto a casa i risultati. Mi sono rivolto all'assessore ai lavori pubblici Mimmo Ciraci, il quale ha valutato il problema e devo dire in tempi rapidi ha risolto il problema. Non è certamente una sviolinata a nessuno perché come sapete bene in tante occasioni ho espresso riserve e critiche nei confronti dell'amministrazione ma quando effettivamente i risultati si raggiungono io non posso che essere contento di questa situazione. Motivo per cui io da civico ho aderito ad una maggioranza civica. Voglio la politica dei fatti. Alla gente non interessa se abbatte il sedicesimo, il diciassettesimo, il diciottesimo, se era opposizione, se poi è diventato maggioranza, se stava qui, se stava lì. A prescindere dal fatto che io sto dove stavo, civico ero e civico resto ma alla gente, alle persone interessano i fatti, non interessano le chiacchiere, i veleni, il chiacchiericcio. Alla gente interessa che prima c'era il buio e ora c'è la luce. Io mi sono sempre dichiarato un consigliere del fare che vuole collaborare per la città con un'amministrazione che deve diventare un'amministrazione del fare e devo dire che nel momento in cui ci sono i risultati e si stanno vedendo, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma quando i risultati si ottengono io sono davvero soddisfatto. Quindi cari concittadini segnalatemi, continuate a segnalarmi le problematiche, io queste problematiche le pongo sui tavoli dell'amministrazione comunale e cercheremo insieme io e l'amministrazione di dare risposte al cittadino. Devo dire che io so fare anche autocritica. I miei servizi, i miei interventi avevano certamente un carattere forte, molto duro, però mancavano di un passaggio più importante, quello di insistere, quello di rivolgersi di più alle direzioni e agli assessorati. Beh, ci ho riflettuto e ho detto, sì ma Luigi, ma i tuoi interventi non devono essere soltanto uno sfogatoio, un muro del pianto, perché se no diventa un luogo in cui si vomita e basta. raccogliamo la segnalazione e portiamola da quelle persone, da quei soggetti istituzionali che possono risolvere il problema. Se questa non è un'illusione ottica, non è certamente un fotomontaggio, vedete che bella luce su via padre Coco. Per me contano i fatti e i fatti contano per l'amministrazione comunale e contano soprattutto per il cittadino. Ora, cosa vorrà dire qualcuno? Che io sto facendo una sviolinata all'amministrazione? Assolutamente no. Ho parlato di un fatto obiettivo. Quando ci sarà da criticare, criticherò. Quando ci sarà da apprezzare, apprezzo. Sono un uomo libero, mettetelo in testa, mettetevelo in testa. Né centrodestra, né centrosinistra. Civico, da civis, cittadino. Poi, sul chiacchiericcio e sui pettegolezzi, stendo un velo pietoso. Miserie umane. Miserie umane. Miserie umane.